come far fuori un'idea creativa dai poche informazioni e confuse o danne troppe e confuse di che c'è poco tempo e zero soldi ma che vuoi un lavoro perfetto anche se non sai riconoscere un lavoro perfetto tieni l'occhio fatti sentire attento le nuove idee sono sovversive rendile innocui o pretendi qualcosa di diverso ma che piace a tutti più volte cambi opinione meglio è c'è ancora qualche idea originale censura poi lamentati di non aver visto neanche un'idea originale disprezza i professionisti e chiedi consigli a tua nipote e non dimenticare che una bella riunione fa fuori chiunque anche il professionista più ostinato grazie a tutti grazie a tutti